Grazie all'ITS e ai corsi specializzati nell'Ottica 4.0, ora lavoro nel campo della robotica applicato al settore dell'Ottica. Grazie all'ITS e ai suoi corsi di meccatronica, adesso gestisco il magazzino verticale e l'editamentistica presso l'Interpal. Grazie all'ITS e ai suoi corsi di meccatronica, ho ampliato le mie conoscenze sulla tua figura e adesso ho fatto in gioco tutte le funzionalità di questo torno al contorno dell'Ottica. Grazie all'ITS, ora mi occupo di cicli di lavorazione e sono il responsabile del software gestionale. Grazie all'ITS, in ottica di venduzia 4.0, oggi lavoro in una sala metodologica e governo al CME. Grazie all'ITS, in ottica. Grazie all'ITS! Grazie.